ciao lettrici e lettori bentornati su misfiction books io sono tiffany e bentornati nei fantasy talks oggi infatti parliamo di grimdark e gritty fantasy continua il nostro percorso esplorando i generi del fantasy in modo da fare chiarezza e cercare un po di esplorare le varie sfumature le varie definizioni che contraddistinguono ogni genere oggi parliamo di grimdark fantasy che cos'è il grimdark prendete tutto ciò che è considerato buono per l'umanità e dirigetevi nel verso assolutamente opposto un immaginario sporco impregnato di una quantità orribile di sangue un sarcasmo ancora più arido dove un cast di eroi moralmente ambigui emotivamente tormentati che probabilmente si odiano a vicenda e che odiano il mondo in generale rende meno nitide le linee di demarcazione del fantasy tradizionale includendo elementi dell'horror e del realismo più cinico è un genere che richiama subito all'attenzione numerose opere ma che si inquadra a cavallo di tante altre proprio perché alcuni elementi grimdark sono estrapolati e introdotti anche all'interno di tanti altri generi dall'epic allo sword and sorcery al dark fantasy e passando per l'eroic mentre nel high fantasy tutto è predestinato e la tensione ruota attorno al mondo in cui gli eroi sconfiggono il signore oscuro spinti dai migliori sentimenti il grimdark è una sorta di protestantesimo fantasy i personaggi devono scegliere tra il bene e il male e sono persi esattamente come lo siamo noi grimdark è un sottogenere fantasy con un tono uno stile o un'ambientazione particolarmente distopici amorali o violenti il termine è ispirato al motto del gioco da tavolo warhammer 40 000 in the green darkness of the far future there is only war ovvero nell'oscurità più cupa del futuro anche non troppo lontano c'è solo la guerra adam roberts lo ha descritto come una branca della fiction dove nessuno è onorevole e la forza è giusta e come il modo standard di riferirsi ai fantasy che voltano le spalle alle visioni pre raffaelite più edificanti e idealiste di richiamo medioevale e che invece sottolineano quanto la vita all'epoca fosse brutta brutale breve e oscura a dire il vero in maniera estremamente reale ma ha notato che grimdark ha poco a che fare con la reimmaginazione di una realtà storica reale e più con la trasmissione della sensazione che il nostro mondo sia un luogo cinico disilluso ultraviolento insomma un ottimo bilanciamento tra la ricerca di una finzione oscura molto vicina alla spietatezza della realtà che trova le sue giustificazioni nell'assetto politico di ogni opera in pratica è una reazione al fantasy di stampo più pulito romantico eroico che è venuto prima è un contrappeso a uno stile di fantasy più diretto e semplice volendo semplificare di nuovo il concetto grim infatti assume diversi significati può essere inteso come triste o stile o poco invitante deprimente o preoccupante cupo privo di allegria in effetti potrebbe essere più facile capire grimdark con l'uso di una definizione negativa un grimdark fantasy non è una storia felice non è glamour non è ripulito lucidato non è una storia in cui i protagonisti collaborano per superare il male reale e salvare il mondo non è un mondo in cui esiste un percorso chiaro la storia non si esaurisce in sorrisi e felicità il sottogenere si esprime attraverso miseria disperazione violenza sangue oscurità protagonisti moralmente ambigui anti eroi orribili decisioni e un cupo senso dell'umorismo il gritty fantasy è in larga parte sovrapponibile al grimdark gritty significa sia grintoso che crudo c'è chi definisce sia il gritty che il grimdark fantasy come realistic epic fantasy in maniera molto lapidaria o fantasy realistico invece di un eroe abbiamo un anti eroe violenterà ucciderà saccheggerà e brucerà chiunque si trovi sul suo cammino se è necessario per riuscire nella sua ricerca grazie al suo codice morale molto unico il mondo che sta cercando di salvare è piuttosto brutto quindi non gli dispiace accumulare la sua quota di cattiveria nel perseguimento dell'obiettivo che si tratti di sfiancare di noi agli avversari strappargli gli occhi o mangiare gli animali vivi per questa sua componente molto cinica e cruda e che guarda alla realtà senza una componente più speranzosa ma alla natura proprio più cruda degli esseri umani viene definito fantasy epic realistico o semplicemente fantasy realistico come vi dicevo poco fa e talvolta viene anche chiamato fantasy cupo sebbene il gritty fantasy pone l'enfasi sul realismo e il mondo più oscuro o più oscuro per come viene rappresentato non tutto il gritty fantasy è necessariamente cupo non tutto il gritty fantasy è necessariamente di stampo epico il grit è di per sé ruvidità brutale realismo mancanza di luce e lucentezza ferro opaco rispetto all'acciaio lucido i mondi dei quali leggiamo spesso hanno caratteri storici che ricordano molto spesso anche se non esclusivamente setting medievali ma più che di medioevo è corretto parlare di medievalismo incorniciando la dimensione falsamente storica e di richiamo medievale in una vera e propria distopia eliminando dal mondo medievale tutte le sue beltà artistiche morali filosofiche sociali per trasformarla in un'epoca buia malsana corrotta fanatica e violenta assistiamo alla genesi di un medioevo dark age o grim dark molto lontano da quello storico barbarico che seppur primitivo seguiva regole e principi morali magari diversi da quelli dell'impero romano ma non inesistenti dipingendola quindi come un'epoca violentissima in preda ad epidemie guerre sanguinose e segnate dalla totale sfiducia nell'umanità il grim dark trasforma le sue atmosfere la sua ambientazione in una sorta di nichilismo eroico o meglio dire anti eroico dove gli attori principali di queste saghe letterare sono dei bastardi senza morale dei personaggi subdoli quanto affascinanti e semplici uomini in cerca di un riscatto e non per forza questo avviene in termini positivi turpiloquio sesso libertino e promiscuo vendette ossessive macchinazioni politiche torture fisiche psicologiche il tramonto dell'eroismo cavalleresco l'invidia umana quanto celestiale la totale disillusione teologica e antropologica sono i tratti salienti dell'epopee grim ogni opera ha personaggi che possono essere ambivalenti o moralmente confusi ma una volta messi in uno scenario cupo è piuttosto piacevole vederli lottare e vederli sopravvivere seguiamo personaggi moralmente confusi e grigi è bello vedere un sacco di autori che costruiscono i loro mondi attorno a personaggi che non stanno cercando di salvare principesse e che non camminano in armature scintillanti ma che cercano semplicemente di sopravvivere magari egoisticamente e senza guardare in faccia a nessuno ma non cambia la sostanza per molti invece il grimdark non è più realistico quantomeno non è più realistico di altri generi ma ha un obiettivo semplicemente diverso e probabilmente meno nobile da un lato quello di oltraggiare i miti e la tradizione e di rappresentare in una maniera che si può definire plastica gli aspetti più malvagi dell'animo umano per un mero scopo commerciale al fine di accattivarsi le simpatie dei lettori adulti di adult fantasy che apprezzano molto di più questa accelerazione questo sottolineare la violenza e l'ambiguità infatti non per forza un alto tasso di violenza e una moralità del tutto grigia e spesso priva di conseguenze significa una rappresentazione più realistica ma passiamo come sempre a qualche tratto caratteristico per riuscire a muoverci meglio nella definizione delle opere e nel riuscire a capire se un'opera può essere definibile grim, gritty o grimdark la presenza della magia innanzitutto il livello generalmente di magia è generalmente moderato il grimdark non è come l'epico all high fantasy la costruzione di un sistema magico non è una parte importante della narrazione qui la magia c'è è lì ma la sua presenza è intrecciata in modo molto più sottile nei fili della storia la caratterizzazione dei personaggi invece passa da un livello alto a moderato impossibile standardizzare tutto il genere in questo caso il grimdark imposta le proprie storie attorno ai suoi personaggi e riporta la storia da una dimensione esterna come faceva l'epic a una dimensione che invece è incentrata sulla storia del personaggio stesso mentre l'epic fantasy si concentrava su ambientazioni mappe mostri e sistemi di magia il grimdark entra nel vivo delle cose con i personaggi le storie sono spesso raccontate con una voce narrante serrata in modo che i lettori abbiano un'idea di come il personaggio vede e vive il mondo in prima persona i caratteri forti sono tipici di questo sottogenere se c'è un cavaliere scintillante possiamo scommettere che ci sono numerosi scheletri nel suo armadio i suoi personaggi hanno esigenze e motivazioni individuali che sono complesse talvolta conflittuali da interpretare ma l'interesse di queste storie verte sul comprenderne la psicologia non necessariamente condividerne le scelte né far sovrapporre soprattutto queste scelte alla visione che gli autori hanno del mondo e delle cose questa caratteristica del sottogenere che sembra rispecchiare il disordine della realtà è parte del motivo per cui alcune persone descrivono grim dark fantasy come onesto perché rappresenta l'ambiguità morale che regna realmente insita negli esseri umani e nella natura umana eroi e cattivi possono essere difficili da distinguere a parte il fatto che una una missione e l'altro sta cercando di fermarne al compimento possono esserci anche molti personaggi possiamo seguire non solo un unico protagonista ma seguire un gruppo proprio come avviene nell'epic e nell'high fantasy passando invece alla complessità della trama sostanzialmente le trame grim dark possono essere complesse o moderatamente complesse l'obiettivo finale è di solito compiere una missione o una ricerca personale o una ricerca per conto di qualcun altro o qualcosa del genere nel complesso la trama si basa sul raggiungimento dell'obiettivo della missione ma il numero di personaggi e le relative sottotrame possono renderlo più movimentato di quanto non sia in realtà rimandando continuamente il raggiungimento dell'obiettivo non mancano trame piene di azione trame complesse rese più complicate dalla manipolazione dei personaggi ci saranno conseguenze e colpi di scena imprevedibili perché in questo sottogenere tutto può succedere e quando dico tutto è veramente tutto ma al suo interno il grim dark è un sottogenere incentrato sul personaggio più che sulla trama esterna ad esso invece quanto sono presenti messaggi socio politici all'interno di queste opere i messaggi e le tematiche high fantasy sono tendenzialmente di ampia portata come la lotta tra il bene e il male tra la luce e il buio i grandi valori come l'amicizia la lealtà eccetera eccetera il grim dark fantasy invece crea mondi che vedono la realtà dai toni dal grigio fino ad arrivare al nero a volte i personaggi scendono a compromessi con il male a volte la storia esplora come per raggiungere il bene superiore si debbano adottare metodi molto discutibili piuttosto che una separazione netta e vera e propria tra il bene e il male l'implicazione di ogni storia è che nulla è completamente buono o completamente cattivo non esiste un leggendario re artù che tornerà e risolverà tutti i mali sociali nel puro spirito che potremmo definire naturalista non esiste il bene il male solo il successo e il fallimento e chi riuscirà a non fallire sopravviverà invece passiamo al livello di violenza che è sempre un parametro che cerco di includere quando faccio un po il punto sui vari sottogeneri beh che dire il livello di violenza in queste opere è abbondante spesso gratuito ed esplicito alcuni potrebbero persino dire che il grim dark è eccessivamente violento il livello di violenza sesso e sesso violento sono alti in questo sottogenere ed è principalmente ciò che differenzia questo da altri tipi correlati e altri sottogeneri ok ora che abbiamo gettato le basi direi che è ora di iniziare ad esplorare un po le varie opere possiamo ritrovare nelle basi del grim dark le stesse opere fondanti del genere dark in parte ma soprattutto di sword and sorcery o heroic ma le vedremo più avanti nel dettaglio il trittico magico da citare è quello di weird tales a metà tra pulp fiction sword and sorcery heroic e avventure spesso cruente e oscure stiamo parlando di hp lovecraft robert howard clark ashton smith tra autori che non sono estranei a personaggi che scendono a compromessi molto volentieri tanto per citarvene alcuni conan il cimmero di robert howard che non esita a rubare uccidere con l'obiettivo di spodestare legittimi sovrani e con in mente unicamente il proprio tornaconto personale né i vermi della terra invece howard ci introduce a bran mcmorn che per vendetta non esita a fare ricorso a divinità malefiche per sconfiggere tito silla anche se il risultato decide per sempre in maniera molto in fausta il destino del popolo dei pitti nel ciclo di poseidon clark ashton smith incontriamo maligris che è un perfido negromante che domina di fatto poseidonis con la stregoneria anticipando le zone grigie dei personaggi che troveranno grandissima fortuna nelle opere di diversi decenni successivi su lovecraft ci soffermeremo presto nella puntata sul dark fantasy ma è in dubbio associare il suo nome a mondi in decadenza permeati di oscurità e di sentimenti come la paura e il terrore dove domina la sopravvivenza ad ogni costo in più c'è da fare un appunto che secondo me non è di poco rilievo quando parliamo di grimdark secondo molti il grimdark non ha fondamentalmente inventato nulla di nuovo ma ha semplicemente preso degli elementi e li ha in qualche modo estremizzati e spettacolarizzati per altri invece ha semplicemente riunito e dato un ordine a questi elementi che erano più sporadici e presenti in altri generi in modo da renderli sempre più identificabili quando si parla di grimdark si parla generalmente di un filone abbastanza recente di fantasy e in questo caso partendo dalla base nel 1984 esce il ciclo della black company che ancora non è tradotto in italiano di glen cook in un'epoca in cui i fantasy parlavano di onorevoli ragazzi della fattoria con spade magiche e un nobile destino glen cook ha messo per iscritto quanto si fosse stufato di tutto e infatti questa viene considerata l'opera che anticipa in tutto e per tutto il grande trend del grimdark glen cook si è immaginato un mondo dove alle onorevoli intenzioni di buon cuore vengono accostate quelle cattive di un mondo veramente oscuro capite che diventa tutto molto più bello e divertente da scrivere come ci teneva anche a sottolineare l'autore scrivendo il ciclo di black company glen cook anticipa di parecchio e dal via quello che diventerà a tutti gli effetti il genere grimdark the black company parla della banda di mercenari che svolgono semplicemente il loro lavoro e beh possiamo immaginare cosa fanno per vivere uccidono le persone per denaro in questa opera in particolare però accade che la persona che sta finanziando questi assassini sia il tipo di signor oscuro che in qualsiasi altra storia sarebbe il cattivo della narrazione ma perché la black company dovrebbe farsi degli scrupoli vengono pagati e alla fine questo è l'importante la serie di the black company raccolta la storia di the last free company cioè l'ultima compagnia libera di katovar guidata dall'omonimo capitano e tenente la compagnia può contare tra i migliori guerrieri esistenti ma preferisce sconfiggere i suoi nemici e vincere le sue battaglie mediante sotterfugi e sabotaggi il narratore crocker funge da chirurgo della compagnia e da analista per quattro secoli la compagnia ha accettato un contratto dopo l'altro procedendo lentamente verso nord da katovar dimenticata ormai da tempo all'apertura del primo libro vengono avvicinati da una misteriosa figura mascherata che offre un nuovo contratto ancora più a nord attraverso il mare nel primo capitolo tutto cambia per la compagnia e sono coinvolti in una guerra come non hanno mai combattuto prima la scrittura è in realtà estremamente immersiva tanto che riesce a riflettere i punti di vista di uomini ridotti praticamente dei grugniti di cui seguiamo ovviamente le storie nessuno dei personaggi è simpatico e il combattimento non è mai glorificato anche l'umorismo di stampo grit qua abbonda e leggere il libro alla fine risulta anche divertente anche se i personaggi stanno vivendo i momenti più miserabili della loro vita il mondo è oscuro come l'inferno è reso più oscuro dall'explore della black company e dai loro padroni una compagnia mercenaria viene inconsapevolmente assoldata al servizio della signora tale the lady una grande potente strega il suo impero è sorto in ribellione contro di lei e i suoi servi i taken esseri che ricordano moltissimo i nazgul assassini intrighi tra stregoni che scuotono il mondo ed enormi battaglie campali si dispiegano in un'ambientazione nota soprattutto per la sua corruzione l'inganno costante e l'assunto che nulla stia andando veramente bene potrebbe non sembrare molto originale ora ma nel 1984 i cattivi come protagonisti erano davvero strabilianti il romanzo è presentato come un volume degli annali della black company una famigerata banda di spade mercenarie come scritto dall'analista e chirurgo della compagnia il nostro croaker non un ufficiale di alto livello ma nemmeno l'ultimo sprovveduto funge da narratore perfetto di eventi calamitosi ed epici del libro raramente partecipa alla pianificazione delle prossime missioni ma di solito è in grado di partecipare agli aspetti più importanti di esse c'è un cast di dimensioni considerevoli in black company forse più vicino alle abitudini epic ma concentrandosi così intensamente su un singolo personaggio cioè croaker la storia è raccontata su una scala molto umana le principali preoccupazioni di croaker come membro della compagnia e come suo medico sono per la vita dei suoi fratelli d'armi più che per le preoccupazioni riguardanti l'impero attraverso di lui abbiamo un'idea del più importante dei soldati e dei maghi che la compongono vediamo eventi enormi dal punto di vista di qualcuno che li sta vivendo in prima persona ma senza alcun controllo significativo su di essi questo non è un libro sui destini di re principi eroi e maghi ma uomini che portano lance si lamentano delle cattive razioni e si preoccupano di ripagare i loro debiti delle perdite a carte o di altri loschi affari glen cook non ha mai preso molto bene i commenti per il suo stile apparentemente piatto quasi sterile e praticamente mancante di moltissime descrizioni la sua scrittura è assolutamente assurda potremmo dire ma questa componente è in gran parte ciò che dà il suo lavoro velocità e immediatezza molti fantasy in particolare quelli epici sono eccessivamente affezionati alle infinite descrizioni di ogni roccia albero pasto anche di ogni singolo passaggio della storia cook invece riduce tutto al minimo tutte queste cose invece di pagine e pagine con descrizioni interminabili cook non offre altro di ciò di cui ha bisogno per sapere cosa sta succedendo e con un'estrema semplicità ma quello che conta è l'intenzione della sua scrittura e non possiamo sicuramente dire che non è riuscito nell'impresa magari non nella maniera che gli ha reso i più grandi onori tra i suoi colleghi ma sicuramente ha funzionato ed è stato molto efficace cook sa veramente molto bene come superare il confine tra oscurità e luce è vero che i precedenti per gran parte di quello che verrà poi chiamato ed è codificato come grimdark li abbiamo velocemente toccati c'è molta amoralità e persino il male in mostra qui ma c'è anche molto di buono molto spesso io trovo che la moralità grigia in qualche fantasy più moderno sia un po falsata e molto forzata estremizzata e spettacolarizzata ma non è il caso della black company qui invece sembra tutto molto reale non come una posa come una finzione per mostrare quanto sia trasgressivo l'autore o quanto spinga verso l'estremo ci sono rappresentazioni molto più oneste ed è per questo che è comunque molto dirompente per l'epoca in cui è uscito e allo stesso tempo rimane un ottimo modello nel 1991 esce invece la trilogia del sole nero di c.s friedman che è un intrigante mix di horror fantascienza e fantasy guidato da un cast avvincente di personaggi molto complessi e con una prosa sempre intenzione questo libro è sempre stato presentato come un classico del genere ormai da molti anni infatti 1200 anni prima dell'inizio della nostra storia erna un mondo sismicamente attivo ma bellissimo fu colonizzato da coloni provenienti da terre molto lontane il pianeta apparentemente abitabile era in realtà pieno di pericoli che nessuno avrebbe potuto predire i coloni si ritrovarono coinvolti in una disperata battaglia per la sopravvivenza contro fe una terrificante forza psichica naturale con il potere di conquistare la mente umana provocando i peggiori incubi nelle persone oppure l'esatto contrario i sogni più preziosi e dando loro indiscriminatamente vita con il tempo però alcune persone hanno imparato a sfruttare il fe a proprio vantaggio modellando attraverso frasi e gesti che ricordano antiche formule magiche e un numero molto limitato di individui chiamati adetti sono anche in grado di vedere lo scorrere delle correnti del fe in modo da modificarle secondo la loro volontà quella che seguiamo però è la storia di due uomini uno un prete guerriero pronto a sacrificare qualsiasi cosa per la causa del progresso dell'umanità l'altro uno stregone che è sopravvissuto per innumerevoli secoli con una sottomissione totale al male sono nemici assoluti che devono però unirsi per sconfiggere un male più grande di qualsiasi cosa il loro mondo abbia mai conosciuto i punti più forti della trilogia sono la pura originalità dell'intera storia l'incredibile sistema magico e personaggi travagliati che sono tutti sotto l'evoluzione personale delle credenze e delle azioni mentre avanza la storia è una serie oscura permeata da sentimenti molto oscuri il mondo stesso è oscurità un luogo in cui si manifestano i tuoi incubi nella realtà perché possono prendere forma diciamo che una delle pecche più grandi di questa saga è forse quella del ritmo della storia che arriva spesso a rallentare fino a sembrare quasi totalmente statico per poi riprendersi invece in altri punti la discontinuità del ritmo può davvero demoralizzare molti lettori ma questa non è una serie per deboli di cuore e the cold fire trilogy ovvero la trilogia del sole nero è una delle letture migliori del genere e poi come non parlare di quella che esce qualche anno dopo diventando proprio il simbolo stesso del genere e del sottogenere ovvero nel 96 esce a game of thrones il primo volume delle cronache del ghiaccio e del fuoco di george rr martin martin cominciò a scrivere la saga nel 91 e il primo libro venne pubblicato negli stati uniti nel 96 concepita inizialmente come una trilogia e probabilmente noi non ne vedremo mai la fine perché martin non ha idea di come finirle si è incastrato da solo ma questi sono pareri personali ma rimaniamo positivi magari il vecchiaccio malefico sfoderà assi nella manica e effettivamente questa quarantena ci porterà winds of winter chi lo sa come per tolkien non mi dilungherò sulle cronache perché penso che siano fortemente integrate nell'immaginario collettivo e rappresentino ormai un canone ineludibile nel genere a mio modestissimo parere a song of ice and fire è la serie fantasy più innovativa e determinante del contemporaneo che la si ami o che la si odi pensiamo all'influenza che ha avuto non solo per lo sviluppo del genere stesso ma anche su molti aspetti che ora diamo per scontato e apprezziamo in letteratura le cronache del ghiaccio e del fuoco sono strutturate in modo tale da apparire come una storia politica piuttosto che di eroismo dove la lotta per il potere è il risultato di un sistema feudale e non di una contrapposizione così netta tra bene e male martin non desidera solamente riflettere le frizioni tra le differenti classi sociali medievali ma anche esplorare le conseguenze delle decisioni dei regnanti convinto che la bontà non renda automaticamente dei capi competenti e viceversa si è cercato una serie fantasy che segua tutti i cliché standard eroi che non muoiono mai cattivi monodimensionali personaggi secondari super saggi un deus ex macchina leggete qualcos'altro ovviamente se cercate una serie fantasy brutale spietata e totalmente imprevedibile a song of ice and fire è imperdibile il mondo della serie è più convenzionalmente epico il mondo non è solo medievale ma identificabile come un setting inglese in quanto assimilabile al conflitto tra i lannister che rappresentano i lancaster e gli stark ovvero gli york più un ricordo della guerra delle rose la qualità forse migliore di martin sta nella resa dei personaggi di come riesca a rappresentare un'umanità torbida realistica senza contrasti così netti tra bianco e nero tra buoni al cento per cento e cattivi al cento per cento evidenziandone spesso le zone grigie siamo ben lontani ovviamente dalla concezione tolkeniana di eroi irreprensibili e malvagi senza possibilità di redenzione martin d'altra parte fa un lavoro superlativo nel trasformare i cattivi in eroi e gli eroi in cattivi anche i personaggi più fastidiosi e spregevoli sono visti di volta in volta con simpatia o hanno la possibilità di presentare il loro punto di vista così che il lettore è lasciato libero di decidere ovviamente per sé chi siano i buoni e chi siano i cattivi in base alle conseguenze delle loro azioni pensate ad un personaggio come tyrion lannister che trovo particolarmente magistrale perché la dicotomia tra la sua struttura fisica che tutti deridono vedono come contorta in contrapposizione con la sua formidabile mente si evolve in un modo sempre più imprevedibile ancora più importante i personaggi di martin sono molto più rappresentativi dell'esperienza umana non c'è troppo spazio per l'eroica persistenza di una brandy tart e anche per l'umile lealtà di uno scudiero come podrick payne perché martin si dedica al sesso alla rapina alla sperimentazione senza troppe esitazioni i personaggi di martin tra cui quelli più amati come anche cersei lannister sono identificabili come i cattivi della nostra storia ma se noi ci mettiamo nei suoi panni vediamo sempre le sue ragioni non ce le riusciamo mai a dimenticare e da un certo punto di vista fa ciò che è meglio ecco forse martin non è il migliore scrittore di questa lista ma non va sicuramente sminuita la sua capacità di pianificazione il modo in cui come una grande macchina la storia si mette in moto si incastra si evolve imprevedibilmente e ci porta sempre in territori che non avevamo immaginato come già vi accennavo nelle diverse puntate precedenti è sempre più corretto intendere dalla metà degli anni 80 in poi i generi come una mescolanza tra di essi e mai come appartenenti solamente ad un unico e ad un solo sottogenere e questo è sempre più evidente dalla fine degli anni 90 e nelle opere successive e in un certo senso noi possiamo intendere a song of ice and fire come un epic fantasy con sfumature grimdark con sfumature veramente molto grit e brutali ma non solo come tante opere che vedremo anche in seguito nel 2003 esce the darkness that comes before il primo di prince of nothing di richard scott bakker ovunque venga menzionata la parola grimdark la trilogia di prince of nothing di bakker segue subito dopo come in un epic fantasy la saga si apre con il ritorno di un dio malvagio che minaccia la fine di ogni cosa però ecco i nostri eroi non sono quelli di un classico epic fantasy ci troviamo di fronte a uno stregone depresso un monaco manipolatore e un ex prostituta bakker ha praticamente creato in ogni suo tassello un intero mondo molto vivido ha creato il suo speciale sistema magico unico personaggi nomi misteri rituali tabù linguaggi e religioni come nella serie sui mala zanna siamo gettati dentro la narrazione ed è davvero difficile riassumerne la trama raccontata peraltro tramite numerosi punti di vista è un mondo segnato da un passato apocalittico che evoca sia un tempo di 2000 anni prima che i nostri fatti inizino che 2000 anni nel futuro mentre migliaia di persone si radunano per una crociata sono trascorsi molti secoli dalla prima apocalisse il non dio è stato sconfitto e il pensiero degli uomini si è rivolti inevitabilmente a preoccupazioni più mondane drusa acamian tormentato dai incubi di 2000 anni fa è uno stregone una spia alla costante ricerca di notizie di un antico nemico che pochi credono che esista ancora i curei confas nipote dell'imperatore nansur è l'esaltato generale dell'esercito imperiale e un genio militare trama di conquistare il mondo conosciuto per il suo imperatore anche se sogna il trono per se stesso maitanet misterioso e carismatico è il leader spirituale dei mille templi cerca una guerra santa per purificare la terra dagli infedeli knayur capo degli utemoth è un barbaro rifiutato dal suo popolo cerca vendetta contro l'ex schiavo che ha ucciso suo padre e lo ha disonorato agli occhi della sua tribù in questo mondo entra anasurimbor kellus quando due uomini e due donne sono catturati dal misterioso viaggiatore in parte guerriero in parte filosofo in parte stregone figura carismatica proveniente da terre a lungo ritenute morte ma il destino degli uomini anche dei grandi uomini significa poco quando il mondo stesso potrebbe essere distrutto dietro la politica sotto l'espansione imperialista tra il fervore religioso si sta risvegliando un male oscuro e antico dopo duemila anni il non dio sta tornando la seconda apocalisse è vicina e non si possono innalzare muri contro ciò che è stato dimenticato the darkness that comes before è una storia di questa grande guerra santa e come tutte le storie i sopravvissuti ne scrivono la conclusione un fantasy estremamente complesso profondo e pieno di implicazioni di diverso tipo alcuni elementi della serie richiamano una cultura vagamente medio orientale per immergerla nella filosofia e nelle elucubrazioni filosofiche il risultato è questa serie inebriante talvolta confusa questa è una di quelle serie che ottiene pareri completamente opposti in pratica o ne diventi un fan quasi religioso ed estremista o finisci per detestarlo con zelo assoluto i motivi sono semplici ci sono numerose descrizioni spesso ricade nell'infodump cosa praticamente inevitabile peraltro dovendo descrivere un mondo di una complessità tale ma allo stesso tempo viene gettato nel mezzo dell'azione senza preamboli e questo inizialmente crea molta confusione chi ha pazienza procede e man mano che procedono i libri perché possiamo considerare il primo un grande preludio si esalta ne diventa totalmente catturato in altri casi invece diventa estenuante noioso quindi si abbandona tutto è comprensibile ma chi ama la serie la ama davvero in una maniera molto profonda sorprendentemente originale in ogni sua concezione ambizioso nel campo di applicazione con personaggi avvincenti grigi e vividamente disegnati un sistema magico e complesso possiamo dire che la saga di prince of nothing ha davvero dato manforte all'affermazione del genere grimdark e nel 2006 esce una delle mie opere preferite io sono molto affezionata a questa serie quindi non sarò obiettiva e stiamo parlando di the lies of lo clamora cioè gli inganni di lo clamora prima nella serie dei bastardi gentiluomini di scott lynch che probabilmente vedrà la fine l'anno del mai segue le avventure di un gruppo di artisti di strada truffatori conosciuto col nome di bastardi gentiluomini le loro avventure sono ambientati in una città chiamata camor ideata sulla base di una venezia medievale ma che racchiude in sé una moltitudine di caratteristiche barocche a sfondo fantasy scott lynch ci porta in un'avventura adrenalinica con una banda di ladri audaci guidati dallo straordinario truffatore locke lamora locke lamora è un orfano il cui destino si delinea fin dal prologo del libro nella grande città costiera di camor ricca di canali aristocratici governanti ricchi mercanti e bizzarri divertimenti egli viene accolto dal forgialadri ed entra a far parte del sotterraneo mondo criminale della città il mondo delle bande di giusti di camor fatto di complicate regole e codici segretezza e rigide gerarchie il romanzo si snoda in due linee narrative di cui la seconda si apre in forma di flashback più o meno estesi che hanno la funzione essenziale di gettare luce sul passato e sul difficile apprendimento dell'arte ladresca da parte del protagonista la linea narrativa principale segue invece i bastardi gentiluomini cioè la sua banda nel mettere in atto una truffa ai danni di don salvara ricco mercante camorriano di essenze il rischio altissimo ma chi potrebbe mai portare a termine questa missione se non loro scott lynch possiede una disinvoltura straordinaria nel tratteggiare tipi umani nel delineare caratteri e motivazioni nel saper scrivere dialoghi intelligenti spesso pungenti ed estremamente ironici nessun passo falso macchia una trama vincente serrata il ritmo è sempre elevato anche quando la storia principale lascia il passo a salti narrativi nel passato di loki e dei suoi compagni questa serie la miscela perfetta di epic fantasy commedia e cupezza un po più tipica del grim dark e a chi non piace una storia di belle rapine fondamentalmente il libro è considerato nel complesso piuttosto oscuro ma ci sono molti momenti più leggeri per ravvivare le cose considerato tra i migliori del genere la prosa è divertente potente e abbastanza ben scritta un cast di personaggi complessi una trama interessante per chi ama gli heist impossibili la serie parla di una banda di ladri fondamentalmente e siamo tutti grandi fan di queste cose su questo canale e un sacco di ironia in mezzo a questo ambiente più cupo e pericoloso rendono la serie di gentleman bastards tra le più amate non c'è un grande male da sconfiggere o regno a rischio solo la narrazione personale di un gruppo di ladri man mano che i libri progrediscono gli effetti delle decisioni di loki iniziano ad avere conseguenze sempre più ampio per il mondo in generale fondamentalmente man mano che avanzi la posta in gioco aumenta man mano che il mondo si espande e mentre loki scopre di più su chi sia veramente un'impostazione originale dinamica e molto moderna se la consideriamo come un tentativo di rivisitare alcuni temi invece molto cari all'epic fantasy e all'like fantasy ma sicuramente in linea con l'atmosfera e i temi grimdark i nostri ladri sono degli anti eroi perfetti non a caso infatti la serie si chiama quella dei bastardi gentiluomini nel 2008 invece esce la via delle tenebre che apre la serie dell'angelo della notte cioè the night angel trilogy di brent wakes la trilogia di night angel è la storia di un giovane ladro di strada con un passato di abusi che si trasforma in un assassino tosto e aiutato dalla magia azot è cresciuto nei bassi fondi e ha imparato a giudicare rapidamente le persone e ad assumersi dei rischi rischi come l'apprendistato con durzo blind un vero sicario ma per essere accettato azot deve voltare le spalle alla sua vecchia vita e abbracciare una nuova identità e un nuovo nome come kylar stern deve imparare a navigare nel mondo tra le pericolose politiche degli assassini e strane magie e a coltivare il talento per la morte come ci si può aspettare da una storia di inizzazione all'assassinio dove si impara l'arte dell'omicidio per vivere ci troviamo in un ambiente molto dark anzi molto più che dark al di là dell'aspetto gritty dell'ambiguità morale e della violenza i libri di night angel non mancano di una sequela di atrocità davvero sconvolgenti come una gigantesca mostruosità magica che incorpora la carne delle sue vittime in se stessa o un cannibale con un cappio fatto di tendini delle sue vittime in qualche modo wicks riesce a rendere i libri divertenti pieni di azioni e le scene invisibili sono particolarmente tese l'urban fantasy dai toni oscuri e gritti si mescola la purazione e gli eroi raggiungono dei livelli di potere quasi da super eroi entro la fine della trilogia i libri di night angel sono ciò che ha trasformato wicks in un nome molto popolare nel genere green dark ecco non aspettatevi la mancanza di cliché di stereotipi e qualche forzatura la scrittura è estremamente incerta in alcuni punti e non sempre chiara la direzione che vuole prendere la serie successiva the light bringer è di gran lunga migliore dei suoi primi libri ma la serie di night angel è più gritti in termini di tono e di ambientazioni in particolare il primo libro nel 2010 segue la serie del portatore di luce cioè light bringer che comincia con il prisma nero the black prism serie ancora più amata della night angel e decisamente scritta meglio il protagonista principale gavin è il più potente veicolo di magia del mondo ed è dannatamente bello gli è stato dedicato tantissimo tempo in modo da riuscire a comprenderne la complessa caratterizzazione non mancano diversi punti di vista tra il nostro gavin e altri personaggi presenti nel libro light bringer si svolge in un mondo in cui i lights possono usare diverse frequenze di luce per creare diverse forme della sostanza magica chiamata luxin a sua volta il luxin può essere utilizzato per un numero quasi infinito di applicazioni sette regni noti come satrapie sono organizzati attorno a sette colori questi sette membri formano lo spettro il corpo dominante dell'impero cromerico il potere supremo è diviso tra the white che detiene il potere politico e the prism un policromo a spettro completo in grado di disegnare in tutti i colori e un light splitter cioè colui che ha la capacità di dividere la luce bianca in un colore specifico il prisma mantiene l'equilibrio tra i colori senza la loro influenza il mondo si trasformerebbe nel caos il portatore di luce è una figura leggendaria è una profezia nei regni alcuni credono che fosse l'uomo che riorganizza il mondo nei suoi attuali stati politici e spirituali secoli prima alcuni credono invece che sia una figura che deve ancora venire destinata a cambiare il mondo in un modo magari ancora diverso la domanda su chi è stato o sarà il portatore di luce è centrale nella storia è un mistero ancora da svelare mentre questo libro si erenta più verso l'epic che nella trilogia di night angel è ancora brent wicks con i suoi toni grim quindi contiene tutto quello che c'è di buono nella cupezza come l'ambiguità morale la grinta e l'oscurità ci sono meno omicidi certo ma il sistema magico ben sviluppato lo compensa e ci sono alcuni grandi colpi di scena che hanno davvero un forte impatto nel lettore nel 2008 esce the steel remains ovvero il primo libro di a land fit for heroes di richard k morgan che è stato tradotto in italia come i sopravvissuti ma è stato tradotto solo prima credo sia anche fuori commercio quindi lasciate ogni speranza voi che entrate richard k morgan ha scritto anche alcuni fantasy di natura molto diversa e si occupa anche di fantascienza e sci-fi è l'autore della serie di altered carbon che forse conoscerete anche per la trasposizione su netflix possiamo intendere la serie di a land fit for heroes come estremamente sovversiva questo libro è un'avventura davvero cupa che segue un malato di sindrome post traumatica sfiancato dalla vita nella sua avventura per salvare il mondo di cui in fondo non gli importa neanche molto è disordinato disgustoso intenso metitabondo e anche decisamente fantastico ringil il protagonista psicologicamente è a pezzi tormentato dalla colpa e sfregiato dalle battaglie ringil eskiat infatti è un eroe di guerra a causa di un conflitto tra umani e gente scale scalana simile a delle lucertole sebbene ora sia evitato dalla sua stessa famiglia che è di origine aristocratica nella città di trailane parte della lega del nord a causa della sua omosessualità viene scontattato da sua madre mentre in esilio dopo che un lontano cugino sherry viene venduto in schiavitù per pagare il debito del marito ritorna trailane e le sue indagini rivelano la presenza di un duenda un essere ultraterreno che vive al di fuori del tempo convenzionale che sta aiutando gli schiavisti da qui inizieranno una serie di intrighi avventure e intrecci sempre più cupi il protagonista principale ringil è un leggendario spada cino che vive relegato nei bassi fondi delle taverne è apertamente gay in un mondo in cui l'omosessualità è un'offesa capitale inevitabilmente il suo orientamento sessuale definisce il suo comportamento sociale e suo stesso essere annichilendo la sua appartenenza a una famiglia nobile e la sua reputazione di guerriero questo è la decisione di ringil di sfoggiarlo di fronte alla mentalità impregnata di bigottismo è un elemento chiave della storia l'eroe per una volta è gay questa serie probabilmente la più scura la lettura più gritti e triste di tutto il genere seriamente il buio e la depressione permeano questa serie fin dal suo inizio alcuni lettori potrebbero non essere in grado di gestirlo quindi fate attenzione perché i trigger warning qua abbondano il libro è super violento non mancano contenuti sessualmente espliciti ed è molto gritti ci sono momenti in cui ti farà sentire davvero molto a disagio al contrario di tante opere fantasy di altro genere qua anche l'esplicitazione sessuale non manca morgan ha sicuramente un modo di esprimersi e una prosa molto piacevole da leggere così come la costruzione del mondo è davvero intrigante con accenni al di là dei normali territori del grim dark fantasy e definire piacevole una serie del genere lo so sembra follia ma giuro che lo è nel 2011 invece esce prince of thorns di mark lawrence mentre il mondo in stile medievale è in una sorta di apocalisse zombie il protagonista è il più grande mostro di tutti motivo per cui questo libro non potrebbe essere mai considerato horror york è uno dei migliori anche se forse è meglio dire dei più amati protagonisti del genere prince of thorns è una risposta incredibilmente raccapricciante ai brillanti eroic fantasy degli anni 80 e 90 e guardare york farsi strada attraverso questo miserabile mondo è ironicamente immensamente divertente york è un bastardo assoluto ma lo sa e la sua arguzia e il suo senso di giustizia con torto ti attirano a schierarti con lui che ti piaccia o no la caratterizzazione della trilogia è di primo ordine e la scrittura di lawrence è piacevole tanto quanto il contenuto è orribile prince of thorns non è un libro gentile il principe onorario york hankrat erede al trono del regno di suo padre aveva nove anni quando gli uomini del conte renar tennero un'imboscata sulla carrozza reale fracassando il cranio del suo fratellino contro una roccia e violentando e uccidendo sua madre york si è salvato solo per puro caso essendosi gettato in un cespuglio di rovi uncinati pochi istanti prima dell'attacco questo episodio lo ha trasformato nel principe di spine appunto il nostro prince of thorns e ha riempito la sua esistenza di un insaziabile brama di vendetta e di violenza al ritorno al castello di suo padre york scopre che il re di hankrat non intende agire contro il conte di renar oltre ad accettare un indennizzo ridicolo per l'omicidio york decide quindi di fuggire da tutto insieme a una banda di pericolosi fuorilegge originariamente intenzionato ad uccidere il conte di renar ma finendo per saccheggiare e saccheggiare per anni prima di tornare quindi siamo chiaramente in una terra anti eroe nel sottogenere dove proprio lo sterco e il sangue si mescolano allo sword and sorcery che mira sfregiare il tuo viso in una lama che potremmo definire arrugginita i terribili servizi igienico sanitario e le malattie colpiscono effettivamente le persone che vivono in condizioni medievali in netto contrasto con le rappresentazioni di high fantasy con ricerche più nobili in cui il bene è divinamente providenziale combatte il corrotto e quindi alla fine condanna sempre il male a far lire in prince of thorns il personaggio principale ha subito un disastro personale non è il male che minaccia il villaggio non è un orgoglio ferito o un'oscurità incombente in un territorio lontano è stato fregato è stato davvero colpito pesantemente uno tsunami ha attraversato la sua vita e ha lasciato devastazioni il libro è in gran parte la sua reazione a questo si tratta di dove si origina la sua rabbia e dove la sua rabbia lo porta il personaggio di york è ispirato da alex de large di arancia meccanica in prince of thorns tuttavia lo vediamo crescere da un bambino alle prese con il violento omicidio di sua madre di suo fratello a un giovane sulla strada con i banditi in cerca di vendetta per i molti traumi che è stato costretto ovviamente a subire ciò che rende prince of thorns così brillante è che siamo legati esclusivamente alla prospettiva in prima persona di york è impossibile non iniziare a vedere le cose a modo suo dopo un po e mentre sicuramente è un orribile bastardo omicidia violento incline alle atrocità più schifose agli istinti che respingeremmo senza esitazione in un altro luogo è anche il primo ad ammetterlo il suo senso dell'umorismo è così malvagio ed esilarante che è facile dimenticare che non dovresti fare il tifo per lui in termine di grit e di grim l'impero spezzato che york percorre è un luogo desolato pieno di non morti affamati re in guerra e peggio ancora banditi proprio come york intere città sono lasciata la desolazione delle buffonate di york e alla fine capiamo sempre e giustifichiamo sempre la sua visione e le sue azioni perché sappiamo che fa quello che fa nel tentativo di vendicare suo fratello e sua madre è brillante poeticamente scritto assolutamente brutale ed inesorabilmente gritti nel bene o nel male e anche qua i trigger warning non mancano arriviamo all'ultima opera di oggi perché mi sentivo anche un po in colpa di essermi addentrata così molto in avanti e quindi arriviamo al 2011 dove esce low town di daniel polanski nell'area più brutta sporca e infestata dalla criminalità della città più bella delle 13 terre si trova low town un posto che pochi chiamano volentieri casa ed è qui che il guardiano risiede usando le sue abilità molto ciniche e violente per governare questa baraccopoli come un vero signore del crimine trascorre le sue giornate a spacciare droga le sue notti invece si riempiono di guerriglie sotterranee per il controllo degli illeciti e i profitti che ricava dallo spaccio li distribuisce pagando le guardie per guardare dall'altra parte e rendergli la vita un po più facile e sopportabile ma c'è di più nel guardiano di quanto non sembri il suo passato è pieno di amici inaspettati trionfi sorprendenti e misteriose cadute in disgrazia tutte le sue varie esperienze lo rendono una persona perfetta per affrontare la serie di omicidi di bambini a low town il fatto che i bambini muoiano nei bassi fondi non è insolito ma il come e il perché è ciò che attira il guardiano nel pericoloso gioco messo in piedi da poteri apparentemente al di là di ciò che lui sa e conosce rafforzando ancora una volta il concetto che a low town nessuno può affidarsi di nessuno è la storia di uno spacciatore dei bassi fondi di una città fantasy e del suo viaggio per risolvere un omicidio di cui la polizia non vuole occuparsi e non si sente minimamente disturbata l'oscurità di low town è una parte integrante dell'ambientazione dei personaggi e della sottostante visione nichilista dell'umanità gli orrori e i mostri qui sono le persone e polanski dimostra che le persone possono essere molto più terrificanti di qualsiasi zombie lupo mannaro vampiro la caratterizzazione di the world cioè del nostro protagonista un uomo davvero stanco del mondo è uno dei punti salienti del libro ed è arricchito dalla narrazione in prima persona puoi quasi davvero toccare con mano il vomito la droga lo sterco per le strade di low town ma in qualche modo polanski lo trasforma in un'atmosfera e in un'esperienza quasi piacevole in questo elenco poi già che siamo arrivati in fondo sarebbero potuti benissimo comparire la prima legge di abercrombie e abercrombie in generale eppure il ciclo dei malazzancaduti di ericsson come tante opere moderne come vi ho già detto numerose volte sono difficilmente incasellabili in un solo genere o in un solo sottogenere ma anzi pescano un po da tanti aspetti che poi finiscono per contraddistinguerli abercrombie anzi è proprio uno dei maggiori esponenti del grimdark è anche uno dei promotori di questo genere ha scritto molto per decodificare ciò che invece ha cercato di delineare attraverso la sua opera quindi non li vedete in questa puntata semplicemente perché volevo parlare di altri aspetti legati a queste opere e appunto abercrombie come ericsson ma come tanti altri che purtroppo non vedete in questa puntata hanno tantissimi elementi grimdark o sono contraddistinti da elementi grimdark proprio come invece tante altre opere che vedremo in altri sottogeneri potrebbero tranquillamente rientrare nella puntata di oggi ma non lo facciamo solo per fare un percorso un po più chiaro su altri aspetti dove mi interessa toccare diversi punti perché appunto c'è sempre più mescolanza è sempre meno comprensibile la definizione di un'opera e l'incasellamento di un'opera in un unico genere e questo forse le rende anche più interessanti e sempre meno statiche ed è questa secondo me l'introduzione più importante del fantasy contemporaneo detto ciò io oggi spero di avere fatto molta più chiarezza su questo genere che è un genere che io amo molto nonostante è un genere che va sicuramente introdotto con una serie di premesse e una serie di trigger warning perché ricordatevi che quando si parla di grimdark si parla di violenza di oscurità e di cose molto pesanti da digerire quanto meno quindi sicuramente non è un genere per tutti però è un genere anche molto divertente come avete visto abbondano le donne qualcosa che mi sento sempre di sottolineare a parte la trilogia del sole nero diciamo che le donne difficilmente scrivono grimdark o hanno spazio per scrivere grimdark e i protagonisti tendenzialmente come vedete non sono donne o ce ne sono molto poche e sapete che io sono anche qua per sottolineare questi aspetti nel fantasy detto ciò io spero che la puntata di oggi sia risultata interessante fatemi sapere cosa ne pensate ci sentiamo giù nei commenti se avete pazienza e voglia di chiacchierare con me riguardo a queste opere e questa serie la dedichiamo anche alla nostra grandissima illusione di avere winds of winter e dream of spring di george r martins come speriamo e ci affidiamo a scott lynch per vedere la fine di lies of lucky la mora e anche alla ripubblicazione italiana di quest'opera detto ciò io spero di avervi tenuto compagnia che la puntata sia risultata chiara e piacevole fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti per tutto il resto direi che ci vediamo per i fantasy talks alla prossima puntata che dovrebbe essere il dark fantasy sì se sono brava e finisco e per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao